L'oggetto del contendere è un'ala del secondo piano dell'ex ospedale San Camillo, ora trasformato in Casa della Salute, ovvero il nuovo blocco operatorio con tre sale operatorie sottoutilizzate. E' questa la ragione del braccio di ferro tra consulta popolare per la salvaguardia del San Camillo di Comacchio, che sta occupando da tre anni l'ex ospedale, e le istituzioni politiche e sanitarie del territorio estense. Ma per questo braccio di ferro potrebbe esserci una conclusione. L'unedì scorso infatti in prefettura Ferrara si è tenuto un tavolo per avviare e forse concludere una trattativa basata su uno scambio tra azienda USL di Ferrara e consulta popolare. Via Cassoli si impegna a presentare un piano di fattibilità per aumentare la chirurgia di bassa soglia a San Camillo e la consulta darà il via libera all'ingresso delle pediatrie di gruppo e altri servizi sociosanitari nella struttura di via Felletti. La storia di San Camillo deve riprendere e noi dobbiamo avere la possibilità di venire incontro alle loro esigenze impiegando la struttura praticamente nuova e che ha bisogno di essere utilizzata, ha ribadito il direttore generale dell'azienda USL di Ferrara Claudio Vagnini, che ha garantito il piano di fattibilità anche per frenare l'esodo di molti cittadini del Delta, orientati sempre più a rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche e private fuori provincia e fuori regione. Una mobilità passiva che supera i 38,5 milioni di euro e che è aumentata soprattutto dalla apertura del nuovo Sant'Anna di Cona, sottolinea Marrico Mezzogori, portavoce della consulta, da sempre in prima linea, per chiedere un maggiore utilizzo delle sale operatorie del San Camillo. Mezzogori, tra l'altro in queste ore, ha anche presentato un esposto in prefettura per chiedere di sollecitare il sindaco di Comacchio a convocare la commissione sanitaria comunale attesa da più di tre mesi. Per stilare il piano di fattibilità, che permetterebbe anche un taglio alle lunghe liste di attesa, e per presentarlo in conferenza socio-sanitaria territoriale, l'azienda USL ha chiesto un mese di tempo. E per questo scambio, do ut desi, il prefetto di Ferrara ha invece reclamato un impegno preciso alla consulta, ovvero una risposta veloce alla proposta. Una decisione che il Comitato Storico per la Difesa dell'Ospedale prenderà lunedì sera durante un'assemblea cittadina, ma che sbirciando nella pagina Facebook si potrebbe forse già anticipare. Fate questo studio, fatelo approvare in conferenza socio-sanitaria e in un mese si fa tutto. Scrive la consulta su Facebook, come dire, prima vediamo e poi ci crediamo.